Ciao a tutti, volevo farvi vedere questa boccetta di vetro che io uso per metterci il detersivo per lavare i piatti mi sembra molto utile, è la prima volta che uso questo contenitore qui in Canada lo trovo utile perché non devi più prendere in mano la solita bottiglia di plastica dove è contenuto il detersivo ognuno può usare qualsiasi tipo di detersivo biologico è meglio però trovo utile questa bottiglietta di vetro è facile da usare, ci metti sotto la spugnetta, premi e esce il detersivo mi piace molto e volevo condividere quest'idea di tenere l'etersivo in questo tipo di contenitore ciao